Ciao a tutti da Poderac, sapete che io amo tanto i gadget particolari e infatti io ho recentemente preso un mouse verticale che io definisco il mouse del futuro perché lo sto ormai utilizzando da due settimane e mi sta particolarmente piacendo. Per quale motivo ve lo spiego subito ma come sempre subito dopo la sigla. Eccolo qui, quello che lo rende caratteristico è il fatto che è in verticale, la sua struttura è molto semplice, ci sono qui lateralmente due tasti che vi permettono di andare indietro e avanti poi ovviamente il tasto sinistro destro, la rotella del mouse e la possibilità di regolare i DPI. Sono 800, 1200, 1600, abbastanza neutri nel senso non sono troppo esagerati. Abbiamo anche qui due strisce, si illuminano quando accendete il mouse, non possono rimanere accese e qui sotto abbiamo lo slot per mettere la micro usb quando ad esempio non la utilizziamo ovvero il ricevitore, è magnetico e evita di essere quindi perso. Abbiamo qui l'ottica e abbiamo lo slot per due batterie AAA che vi permettono di alimentare il mouse fate conto io lo sto utilizzando da due settimane, tre settimane e ovviamente non si è scaricato, penso comunque come durata due mesi con utilizzo molto consistente del mouse poi ovviamente dipende dalle batterie che ci mettete, però per adesso sta andando alla grande come mi ci sono trovato con questo mouse in questi giorni ve lo dico subito, mi sono trovato bene la sua struttura sembra un po' particolare perché sembra che la mano stia appoggiata in modo male ma vi posso assicurare almeno nel mio caso che la mano è appoggiata proprio in modo naturale, non fa alcuno sforzo si muove proprio insieme al mouse a differenza di quelli classici che la vostra mano rimane bella lì rigida con questo è il mouse a seguire la mano e non la mano al mouse, è una cosa molto particolare ovviamente i primi giorni sembra di trovarsi male e non ci si è abituati a una forma così particolare fate conto che io mi sono abituato in circa un'oretta, due orette perché? perché vengo sempre da un mouse di occhi che è semi verticale, questo qui è tra il verticale e il non è una via di mezzo, questo qua invece è proprio verticale, vedete, è proprio posizionato in questo modo sinceramente mi sono trovato bene per quale motivo? perché quando lavoro al computer la mano non si stanca cioè quasi come se non avessi lavorato al computer mentre con i vecchi mouse, neanche con questo perché comunque anche questo ha una buona ergonomia con i vecchi mouse invece un po' la senti la sensazione di aver usato il mouse per quelle 3-4 ore di lavoro poi i materiali hanno un buon feeling, nel senso si tratta di plastica ma la mano non suda particolarmente non dà fastidio, si tratta di materiali di discreta qualità il prezzo non è neanche esagerato e secondo me a molti di voi può fare la differenza io lo definisco il mouse del futuro perché veramente mi ha diciamo aiutato parecchio in questi giorni a non stancarmi con la mano certo si può utilizzare principalmente per scopi d'ufficio i giochi non tanto ad esempio negli fps può essere un po' problematico anche i dp non è che siano proprio esagerati io lo utilizzo su Eurotrack, l'ho utilizzato su Airstone su giochi che diciamo non hanno tanto bisogno di movimento della mano e mi sono trovato tranquillamente bene secondo me è solo questione di abitudine se siete curiosi di questo mouse trovate il link qui sotto in descrizione fatevi sapere se l'ho acquistato e come vi troverete non dimenticatevi di lasciare un bel like al video iscrivetevi al canale per non perdere le prossime video recensioni seguitemi su facebook, instagram, telegram per seguirmi anche al di fuori di youtube e noi ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale iscrivetevi al canale